L'egoismo del narcisista. Partiamo da una premessa. All'origine di tutti i mali del mondo c'è proprio l'egoismo, che è il perseguire il proprio interesse anche a scopo di danneggiare l'interesse degli altri. Ego significa io. Nell'egoismo l'io viene messo al centro, mentre l'opposto dell'egoismo è l'altruismo, la solidarietà. Il narcisismo affonda le sue radici dell'egoismo. Infatti il narcisista dice io sono il più bello, io sono il più bravo, io merito tutto il bene di questo mondo, io voglio tutto, gli altri non esistono e non mi importa di loro, io sono importante, io sono potente e gli altri esistono soltanto per me. Ecco, il narcisista soffre di un egoismo logico, questa è la logica del narcisista, che riguarda il suo modo di pensare, per cui il narcisista reputa del tutto superfluo sottoporre le proprie idee alla verifica di un altro. Poi il suo non è soltanto un egoismo logico, c'è anche un egoismo estetico, nel quale il principio universale del bello è unicamente formato dal gusto personale del narcisista, che ha idealizzato proprio quella persona, proprio quel bello. Poi nel narcisista c'è anche un egoismo morale, in cui il beneficio personale diventa il fine unico del suo comportamento. In sostanza tutto è proprietà dell'io del narcisista e gli altri sono soltanto dei mezzi per l'esercizio del suo potere, cioè per il soddisfacimento della sua volontà. Pertanto il narcisista arriva a concludere che per sfruttare la sua libertà può usare ogni mezzo, anche l'ipocrisia e l'inganno. Perciò il narcisista agisce solo in base alla convenienza. Anche in azioni che sembrano mostrarsi come degli atti di altruismo, ma in realtà sono azioni basate sulla convenienza. Quando infatti il narcisista afferma di aiutare gli altri, alla fine lo fa semplicemente per ricavare dei benefici personali. Per lui non esiste un altruismo totalmente disinteressato e gratuito. Poi una forma specifica dell'egoismo narcisistico è anche l'edonismo, per cui il movente delle azioni narcisistiche è il desiderio di sperimentare il piacere e naturalmente quello di evitare ogni forma di dolore, come per esempio l'incertezza insita in ogni relazione profonda. Però vivere nell'incertezza è un compito della maturità che il narcisista non ha. E allora possiamo concludere che le persone forti sono quelle persone che non smettono mai di mettersi in discussione. E questo il narcisista non lo può fare. Le persone forti sono quelle persone che accettano la più grande di tutte le sfide, quella della adesione incondizionata ai propri valori interiori. Ma, ma, in questa visione l'ostacolo esiste come una forma di incentivo per andare avanti. La risoluzione dei nostri più intimi problemi passa sempre attraverso la capacità di azione e il desiderio di cambiamento. Il narcisista non vuole cambiare. Bene, vi informo che molti altri video come questo, più lunghi di questo, li potete trovare nel mio canale YouTube. Basta digitare Roberto Ruga, psicoterapeuta. Poi vi informo che faccio consulenze psicologiche online con la videochiamata o telefonica. Per richiedermi una consulenza basta inviare un messaggio scritto su WhatsApp a questo numero 338 16 92 473, scrivendo come funziona la consulenza, specificando il vostro nome, cognome e i vostri orari preferiti. Inoltre vi informo che ho scritto quattro libri che si trovano soltanto su Amazon. Buona giornata.